In nomine Patris et Filii e Spiritus Santi. Amen. Laudetur Iesus Christus, semper laudetur. Maria Sede Sapientie, ora pro nobis. Carissimi fedeli, vorrei continuare quella catechesi che ho iniziato sul peccato. La volta precedente ho parlato della remissione dei peccati, cioè di questo mandato, di Gesù Cristo alla Chiesa. Oggi vorrei rispondere alla domanda che cosa è il peccato. Quindi partiamo innanzitutto dal fatto che Dio è creatore di tutto ciò che esiste. Ma non è soltanto creatore. Ha posto nelle creature delle leggi, quindi è anche legislatore. Per esempio negli esseri materiali, come il sole, la luna, gli astri. Ha posto delle leggi che regolano le loro orbite in modo necessario. Così anche in tutti gli altri esseri materiali, come l'acqua, la luce, l'aria, eccetera. Ci sono delle leggi riconducibili alla fisica e alla chimica, ma in realtà è Dio che ha posto, creandoli ha posto delle leggi che questi esseri materiali non possono, queste creature materiali, a cui non possono sottrarsi. Così è per quanto riguarda il mondo vegetale, il mondo degli animali anche, il quale è soggetto, oltre che a queste leggi di natura chimica e fisica, anche alla legge dell'istinto. Perciò il comportamento degli animali è sempre determinato da un insieme di istinti che momento per momento ne prevale uno anziché altri e quindi determinano un certo comportamento. Per quanto riguarda invece gli esseri intelligenti, e per essere intelligenti noi intendiamo gli angeli e anche gli uomini, le cose stanno un po' diversamente. Nel senso che l'essere intelligente, l'angelo e l'uomo, essendo dotato di libero arbitrio di conoscenza, quindi di libero arbitrio, può, se vuole, sottrarsi alle leggi che il Signore ha posto nella natura e anche nella coscienza degli esseri intelligenti. Può dire di no al Creatore e può comportarsi in altro modo. Questo gli angeli lo hanno fatto all'inizio della loro vita. Subito dopo la loro creazione, Dio li ha messi alla prova e a seconda dell'esito di questa prova si sono posti per sempre o dalla parte di Dio o dalla parte contraria a Dio. Questo per quanto riguarda gli angeli. Invece, all'uomo non è bastata soltanto la prima prova, quella che è sfociata nel peccato originale, ma l'uomo viene continuamente messo alla prova e continuamente deve scegliere tra l'obbedienza e l'osservanza della legge di Dio oppure seguire che cosa? Le proprie passioni o le tentazioni diaboliche o segue le proprie passioni, le tentazioni diaboliche oppure attraverso la ragione, la coscienza e la fede cerca di conoscere i comandamenti di Dio, la legge divina e liberamente la osserva e obbedisce a questa legge. Il peccato è proprio una trasgressione della legge che Dio ha posto nella natura dell'uomo e nella sua coscienza della legge anche rivelata nell'antichità e anche da Gesù, ecco, da Mosè e da Gesù, è una trasgressione di quella legge ed è anche una offesa, trasgressione e offesa a Dio che è creatore e legislatore. Dicevo, noi uomini abbiamo questa legge della natura iscritta nel nostro corpo che segue necessariamente delle leggi di tipo fisiologico, biologico, però c'è anche una legge iscritta nella coscienza degli uomini e gli uomini attraverso la riflessione e la ragione la possono cogliere. sono leggi che è condivisibili a tutti gli esseri umani, ad esempio il rispetto per i genitori non è soltanto una cosa insegnata dalla religione ebraica e cristiana con i dieci comandamenti, onore il padre e la madre, ma è una legge iscritta nella coscienza stessa di ogni uomo. così come il rispetto per la proprietà privata perciò non si deve rubare queste cose sono iscritte nella coscienza degli uomini Dio le ha già iscritte in più c'è una legge rivelata come vi dicevo prima cioè fatta conoscere al popolo, al suo popolo il popolo ebraico di un tempo e la chiesa oggi legge rivelata attraverso Mosè e poi attraverso Gesù ecco, nella quale conosciamo i dieci comandamenti e li accettiamo questa volta non solo con la ragione ma anche con la fede quindi coscienza, ragione e fede ci fanno conoscere quelle che sono le leggi del Signore per poterle poi osservare liberamente ma se una persona avendo il libero arbitrio dice no, non voglio seguire Dio e il Creatore ma preferisco le mie passioni le mie voglie i miei desideri i miei istinti e le tentazioni del diavolo lo può fare perché è in suo potere di farlo ma trasgredisce la legge divina e offende Dio questo è il peccato carissimi fratelli termino questo discorso a questo punto riprenderemo con le differenze tra i peccati e il modo di suddividerli sia lodato Gesù Cristo nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo Amen Grazie a tutti